The New Stories. La tua informazione libera. Dono, causato dalla prematura scomparsa del suocero, padre di Romina Giamminelli. Nel comunicato ufficiale si accennava a un'uscita temporanea, per motivi personali, ma online si sono diffuse varie ipotesi sulle cause che hanno portato il due volte campione d'Europa di Judo a lasciare il programma. Alcuni ipotizzavano problemi di salute del padre di Maddaloni, mentre altri suggerivano tensioni coniugali. Tuttavia, durante l'ultima diretta serale, Marco aveva espressamente manifestato il desiderio di abbandonare il programma in seguito alla notizia del prolungamento del GF fino a fine marzo, comunicata da Alfonso Signorini. A fine puntata, Maddaloni è stato convocato dagli autori in confessionale, ma non è più riemerso dalla stanza, notato solo quando Greta ha visto Federico entrare mentre Marco non usciva. Il mistero attorno alla sua uscita si è chiarito solo poche ore fa, quando il giudoca ha annunciato sulla sua pagina Instagram la scomparsa del suocero. Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora mi hai trattato come un figlio, ha scritto Maddaloni sui social, ricordando il Signor Mario. Ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare, ho trovato rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un pezzo del mondo. Riposa in pace, o Mario. Non è ancora chiaro se Maddaloni tornerà nella casa dopo il lutto, ma la produzione del Grande Fratello ha espresso solidarietà nei suoi confronti. La squadra di Grande Fratello si stringe attorno a Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore.